Siamo quest'oggi a Crispiano con Angelo Marzia, imprenditore nel settore della installazione e della manutenzione di impianti tecnologici. Angelo Marzia lo abbiamo avuto anche in diverse trasmissioni, ospite con Confartigianato Taranto. È un artigiano, beh Angelo raccontaci la tua storia, chi è Angelo Marzia? Prima di essere un artigiano è un sognatore, perché avventurarsi in un'attività per conto proprio bisogna sognare. Sognare in che senso? È come se uno pianta un alberello e lo deve far crescere in modo da raccogliere i frutti sempre nel futuro. Naturalmente questo avviene dando affidabilità, garanzia, sicurezza ai clienti. Poi c'è il passaparole dove quest'albero continua sempre più a crescere e a raccogliere i frutti. Anche se oggi è un periodo d'accio, diciamolo in questi termini. La pandemia si fa sentire purtroppo. Le persone purtroppo stanno spaventate e rinchiusi in loro stessi timori. Dunque bisogna ancora di più ora avere coraggio e sognare. Non a caso la rubrica si chiama Capitani Coraggiosi. Perfetto, bisogna prendersi la sua nave, cioè dobbiamo prendersi la nostra nave e andare in alto mare. Purtroppo ora abbiamo il mare agitato e comunque la dobbiamo riuscire comunque a portare in porto e a navigare. Parliamo, Angelo, della tua storia. Quando sei nato, tra virgolette, imprenditore, come ti è venuta questa idea e poi tutto il cammino che hai fatto, perché chiaramente è stato un percorso di crescita che, devo dire, ti ha portato ad essere una, non lo dico per piageria, ma rappresenti davvero un'eccellenza del territorio. Ecco, il discorso è questo, che quando si è piccolo naturalmente si vede ovunque. All'epoca, negli anni 80 c'era il boom in Italia, dunque figlio di operaio Ilva, naturalmente dicevi ma perché rimanere operaio e non sognare? E questa è stata una spinta. Naturalmente prima di sognare, sì, sto sognando, però come faccio ad arrivare al mio sogno? Facendo dei sacrifici e andando, diciamo, a imparare un mestiere, un'arte, diciamo, che una volta era una devozione avere un'arte, non una commercializzazione. Dunque, da piccolo, diciamo, che all'epoca si poteva fare, mi sono andato a istruire presso altri maestri, diciamo, questo fino a una bottega, come si suol dire. Fino all'età di 18 anni, poi sono mancato due anni dal mio paese perché ho fatto un'altra esperienza lavorativa fuori, poi sono ritornato sempre testa dura perché volevo comunque e voglio comunque fare per il mio paese e ho iniziato questa attività, naturalmente crescendo pian piano. Quindi, Angelo, parliamo delle tue strutture operative. Noi abbiamo due uffici di cui questo gestisce bollette, luce e gas per fare allacce e tutte le cose, sempre collegati a un altro ufficio, in Corso Umberto, dove è l'ufficio, diciamo, dirigenziale per quanto riguarda i clienti che vengono per effettuare installazione o manutenzione di impianti tecnologici o vari preventivi o per discutere di altre problematiche. Ecco, parliamo di qualche episodio, di qualche momento particolarmente bello perché poi con il cliente, soprattutto nelle piccole realtà, perché non è che stiamo parlando di Roma Capitale, si crea quel rapporto fraterno, quel rapporto diretto, tu sei l'installatore, sei il manutentore ma hai davanti a te un tuo concittadino, un tuo amico e magari si crea un bel rapporto di fiducia, di confidenza reciproca? Il rapporto che è bello che nasce in un paese tra impresa e cittadino è quello che comunque esci fuori, diciamo, dal tuo ufficio, chiunque incontri, saluti col sorriso, senza muguri e nient'altro, anche se dobbiamo dire che non tutti sono soddisfatti del tuo operato come non tutti sono soddisfatti di una pizzeria o dell'altro. Nessuno è perfetto, Gesù Cristo l'hanno messo in croce, figuriamoci noi comuni mortali, no? Cerchiamo sempre di compensare, diciamo, le dicerie, le malefatte, le cose in modo da avere un rapporto pulito, cioè evitiamo sempre il contrasto. Ecco, Angelo, tanto lavoro, tanto impegno, parliamo anche del rapporto con la famiglia, perché chiaramente, dicevo all'inizio, oltre ad essere imprenditori, si è mariti, si è papà, quindi ci sono figli, ci sono delle responsabilità. La tua famiglia ti è stata sempre vicino, immagino. Sì, grazie a Dio, se anche nei sacrifici, quando io effetto dei lavori, diciamo, fuori, luogo che sto fuori, dunque, torno la sera e loro, il giorno, non ci vediamo proprio. Anche un seguire, diciamo, i propri figli nelle loro attività sportive o ricreative. Queste sono delle penalizzazioni per chi ha un'attività per conto proprio rispetto per chi ha un'attività dove ci sono degli orari prefissati. Come si è evoluto il tuo lavoro negli anni? Perché certamente la tecnologia negli ultimi anni veramente è andata avanti a passi proprio spediti, quindi chiaramente se noi tornassimo indietro a 15 anni fa, 20 anni fa, scopriremo un altro mondo. E non immagino tra 10-15 anni, ma anche prima, cosa ci sarà. Ecco, quindi, ora a causa pandemia no, ma in questi anni, diciamo, in questo trentennio di attività, ogni anno noi eseguiamo dei corsi di formazioni. Quindi il momento proprio della formazione, dell'aggiornamento. Anche se diciamo siamo arrivati a questi livelli, comunque ogni anno abbiamo qui 5-6 corsi tramite aziende che noi effettuiamo una loro assistenza, che loro ci hanno dato fiducia e assistiamo i loro prodotti in garanzia. Però naturalmente questi ci danno una formazione in modo da poter andare avanti nell'evoluzione dei prodotti. Allora, Angelo, questo è un momento difficile che stiamo vivendo tutti. Io dico che comunque, prima o poi, speriamo prima che poi, uscirà, tornerà il sole. Per questo periodo di Pasqua, cosa si sente di dire ai suoi clienti, ai suoi concittadini, alle persone a cui è legato e ai concittadini, non vediamo il discorso di non poter uscire, ma vediamo il discorso di poter stare nelle proprie case, con la propria nucleo familiare e coltivare il proprio nucleo familiare. I valori che magari il trantran della vita ci fa perdere ogni giorno. La personalizzazione ci ha fatto perdere. Esatto, proprio la parola giusta. Oggi si sono persi i veri valori. La personalizzazione ha fatto perdere i veri valori della famiglia e della persona e di un'etica morale della persona. Bene, Angelo, io fossimo stati in un tempo diverso, ti avevi dato un abbraccio e una mano, però ci tocchiamo così, sperando sicuramente che... E ci rivediamo prima di uscire... Angelo Marzia, capitano coraggioso, storia di un imprenditore davvero coraggioso. Dobbiamo prendere esempio da persone come lui.